Sono i trasporti e le costruzioni edili i settori più a rischio e quanto emerge dal rapporto regionale dell'Inail sugli incidenti nel lavoro. Nel Lazio complessivamente sono stati denunciati oltre 54.000 infortuni, 96 quelli mortali. Dal 2001 al 2002 gli incidenti sono diminuiti quasi dell'8%, ma aumentano i decessi con un incremento del 5%. Dopo Roma la provincia con il maggior numero di infortuni denunciati e frosinone seguita da Latina. Per combattere il fenomeno bisogna contrastare il lavoro nero e quello irregolare che coinvolge soprattutto gli estracomunitari e rafforzare la prevenzione. L'Inail ha infatti investito 14 milioni di euro per la messa a norma dei macchinari delle imprese e oltre 4 milioni di euro in corsi di formazione per la sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro. E intanto nel primo semestre del 2003 il numero degli infortuni è calato dell'11%.